Parma e Juventus, domenica 13 gennaio. Prima partita del girone di ritorno. All'andata vincemmo 2 a 0. Lichsteiner, Pirlo. Il Parma è ottavo, con 29 punti. Arriva dalla vittoria sul Palermo in campionato. Noi dalla vittoria sul Milan e al conseguente passaggio del turno in Coppa Italia. Domenica ritroveremo qualche ex, con voglia di segnarci. Mettetevi in fila, anzi, in coda, dietro, con tutti gli altri.